Buongiorno a tutti, oggi è martedì 28 febbraio, ultimo giorno di febbraio, sono le 14.56 e siamo dal vivo su Ethereum. E' da un po' di tempo che non ne parliamo tra l'altro, perché sono tornato indietro e ho visto che l'ultima analisi era di 5 giorni fa e quella precedente era di 7 giorni fa, quindi perdonate l'assenza ma come vi dicevo già da tempo questo è un esperimento aggiuntivo e oltretutto non essendo particolarmente in forze in questo periodo e avendo anche tanti altri impegni, faccio come posso. Ritorniamo però al discorso del target a 1743 dollari, vorrei rendere più comprensibile quello che ho segnalato. Ok? Prima cosa, per tornare a salire, per continuare a salire mediamente, i cicli che cosa fanno? Disegnano l'inverso delle onde, quindi prima si scende e poi si torna a salire. Ok? La cosa più semplice da fare per chiudere questo mensile inverso su Ethereum qual era? Era quella di andare su ancora per un paio di giorni, quelli definiti appunto nel primo video in cui comunque si raccomandava sempre di agire di T-3 in T-3, ovvero di giornaliero in giornaliero e chiuderla lì. Invece che cosa è successo? Già con questa candela rossa siamo andati in violazione di questo minimo e quindi abbiamo posticipato l'arrivo comunque al target che rimane sempre questo 1742,50 dollari o più. Perché l'abbiamo posticipato? Perché come detto i cicli come gli inversi vengono fatti a onde e quindi abbiamo fatto un primo T-inverso e stiamo facendo un secondo T-inverso. Peraltro potremmo posticipare ancora di più l'arrivo al target nel caso da qui fosse partito un altro mensile inverso, ovvero facciamo un passo indietro. Prima di tutto, sì, facciamo un altro passo indietro. Prima di tutto questo mensile inverso può essere ancora, può essersi chiuso qui, come sappiamo, oppure può dover ancora chiudere perché mancano 4 giorni di possibile salita alla chiusura appunto a 43 barre, ovvero entro il 4 di marzo di questo mensile. Da qui, dato che non abbiamo l'ausilio degli swing, non sappiamo se sia partito in realtà un altro mensile inverso per fare un semestrale a tre tempi con tre mensili inversi. Ve li disegno per rendere la cosa più semplice. Primo mensile inverso, secondo mensile inverso, terzo mensile inverso. Non lo sappiamo ancora. Per questo motivo il target rimane ovviamente valido. Dobbiamo però capire senza l'ausilio degli swing come fare e quindi diventa molto più difficile come cosa. Anche perché qui, lato indice, riallargo un po', abbiamo avuto un T settimanale con un raccordo tra un settimanale e un settimanale, oppure abbiamo avuto un primo ciclo a sei giorni più un secondo a sei. Abbiamo lo stesso identico quesito in essere che c'è su Bitcoin. Non che cambi molto perché in realtà qui su Ethereum ho raccontato nel gruppo premium che abbiamo un vantaggio rispetto a un vantaggio rispetto a Bitcoin. È un vantaggio molto importante tra l'altro. Qui Bitcoin non ha affatto un determinato movimento. Mentre invece su Ethereum sì, l'ho fatto. E sapere dove passano swing è fondamentale. Ecco perché chi si improvvisa di ciclica poco può fare. Per questo motivo qui abbiamo più possibilità di spingere e di avere come supporto la media mobile a 50 periodi in rosso, oltre alla cum ovviamente quando la incrociamo. Vediamo anche un attimo sì. E la cosa divertente è che abbiamo anche una divergenza rialzista, ovvero minimi crescenti e minimi decrescenti. Eccoli qua che decrescono, scendono, risalgono. Lato indice quindi abbiamo la possibilità che da qui sia partito il terzo ciclo settimanale di questo mensile che è arrivato solo a 15 barre, quindi è abbastanza indietro come tempo. E grazie al movimento fatto possiamo continuare a vedere se ha voglia di spingere verso l'alto per due motivi. Primo, se qui abbiamo chiuso non soltanto un settimanale con un raccordo, da qui può partire oltre a un T settimanale anche un T più 1. Un T più 1 richiede ancora salita per partire se vuole confermarci la sua partenza con la violazione di uno swing. Nel frattempo vediamo anche come siamo messi a inverso. Da questo massimo qui siamo arrivati a 11 barre e quindi da qui può partire un nuovo settimanale inverso. Se torneremo qui sopra, sopra i 1.665,29 dollari e avremmo, se non ci andiamo di oggi ma da domani, un settimanale inverso vincolato a rialzo. Vincolato a far salire prezzi scusate, inverso vincolato a ribasso e quindi a far salire prezzi. Questo perché di nuovo potremmo avere il giochino che fanno ogni tanto, ovvero un settimanale da 11 barre più una barre di raccordo più partenza di un settimanale, quindi no, scusate, 2 barre. Sia oggi che domani dovremmo rimanere sotto questo minimo. Se invece prendiamo la via più semplice senza nessun tipo di raccordo, qui abbiamo potuto chiudere con 8 barre il primo settimanale inverso e qui siamo al secondo. Il secondo sarebbe arrivato solo a 5 barre su minimo 6 e quindi cercherebbe in ogni caso un massimo. Per questo motivo inizio mettermi un bell'allarme qui a 1665,29 per vedere se ho un vincolo su inverso. Vedete, ogni analisi non è fatta di fuffa, di possibili livelli, compriamo però vendiamo e proviamo ad accumulare col money management ma non si sa quando, in base a quale criterio, tutta fuffa, ok? Qui mettiamo allarmi per decidere quando muoverci in base a precisi tempi, tabelle tecniche, tabelle di tempo, ok? Volumi e quant'altro. Non sono cose improvvisate, questo è trading reale, non è proviamo a vedere, ok? Perché è diverso, diverso dalla fuffa. Quindi qui iniziamo a metterci il primo allarme, se poi scattasse voluterebbe di mettere anche un allarme qui a questo massimo a 1679,03 dollari, eventualmente mi spiegherò anche perché la prossima volta. Intanto iniziamo a vedere se continuerà la fase di rialzo, ricordandoci anche una cosa molto importante, anzi varie cose molto importanti. Prima, prima cosa fondamentale, qui siamo a, allora qui siamo arrivati a 186 barre su minimo 192 di un annuale inverso e qui siamo già a 199, siamo già oltre le 192 di durata di un annuale e un annuale inverso. A questo punto, per avere la condizione necessaria e sufficiente per andare a chiudere l'annuale inverso, a noi basterebbe tornare qui sopra. Tornando qui sopra avremo ben più di un ciclo mensile inverso vincolato a ribasso di inverso, ovvero con il baffo rialzista. Per cui, come al solito, io vi avviso, prima che si verifichi una condizione necessaria e sufficiente, che ci può portare a invertire. 199 giorni, sul minimo 192, è vero che si può arrivare a 256,336, ma iniziamo a fare attenzione. L'altra cosa interessante che ho notato, riguardando i cicli superiori, è questa. Sono andato a riprendermi gli ultimi massimi per fare un raffonto rispetto a Bitcoin, anche perché, come sapete, siamo di fronte proprio a grafici potenzialmente estremamente differenti. Da questo massimo a questo massimo, gli ultimi due massimi importanti fatti su Ethereum, siamo a 182 barre. Da qui a qui non hanno fatto un annuale inverso, come ha fatto invece Bitcoin. Cosa sono 182 barre e poi inizia un T7 inverso? Se conoscete le regole, il mondo è nelle vostre mani. Viceversa, il suggerimento è come al solito di... dunque, siamo al decimo minuto e qualche cosa. Andare a guardare, come al solito dovrebbe apparire in alto, la playlist Trading Days, piccolo corso gratuito per iniziare con le regole base della ciclica per arrivare all'evoluta, piuttosto che chiedere informazioni, alla mail info-financialarmor.eu che trovate solitamente sotto nei commenti con le stelline gialle. È l'unico canale con cui potete contattarmi direttamente. Attenzione a quelli che mettono lo spam, cerco sempre di cancellarli e poi ne arrivano in continuazione, per cui occhio che c'è sempre gente che scrive soprattutto inglese, che fa spam. Io appena la vedo poi li cancello. Dice che è tutto, vi ringrazio per il vostro tempo. Se questo video vi è piaciuto e se volete che continui a parlare di Ethereum, mettete un bel like, altrimenti mi concentrerò su altre cose. Arrivederci! Grazie!